Prime risposte al problema della carenza di medici nei comuni di Gandellino, Gromo, Valbondione e Valgoglio, disponibilità di due medici e infermiere di famiglia. Arriva un nuovo medico anche a Castione. A tre anni di distanza dall'inizio della pandemia Alzano Lombardo presenta ai cittadini nel prossimo fine settimana il progetto del monumento a ricordo di quello che ha vissuto la comunità. Nell'Alto Sebino un progetto per aiutare i ragazzi che si rinchiutono nella loro stanza e rinunciano ad uscire si chiama Oltre lo schermo e si basa sulla videogame therapy. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca. Un uomo di 72 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto con lo scooter questa mattina a Ponteranica. L'uomo è finito in una scarpata per circa 10 metri dalla strada in cui si trovava. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco hanno recuperato il 72enne per poi affidarlo alle cure mediche. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è giunto in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri di Zogno. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito in un incidente accaduto in mattinata lungo l'autostrada A4. È successo intorno a mezzogiorno circa un chilometro dopo Grumello in direzione Milano. L'uomo ha perso il controllo del suo furgone che è uscito di strada finendo nel fosso alato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e un'ambulanza. I vigili del fuoco dopo aver affidato l'uomo alle cure mediche hanno messo in sicurezza il mezzo. Il 38enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Cambiamo argomento, torniamo a parlare del problema della carenza di medici nel territorio dell'Alto Serio. Sono state infatti messe in campo le prime risposte. Sentiamo. Prime risposte al problema della carenza di medici nei comuni di Gandellino, Gromo, Valbondione e Valgoglio. Dopo la partecipata assemblea pubblica del 14 febbraio è seguito un incontro tra l'Agenzia di tutela della salute e i medici che lavorano nel territorio dell'Alta Val Seriana e Val di Scalve. Sono state vagliate tutte le ipotesi possibili per far fronte alle criticità derivate dalle dimissioni del dottor Giuliano Barcella, informa la TS in una nota. Da fine gennaio infatti nell'ambito dell'Alto Serio è rimasto un solo medico di base e più di 1500 cittadini sono senza un medico di riferimento. La direzione sanitaria della TS ha raccolto la disponibilità di due medici di assistenza primaria titolari, i quali hanno consentito attraverso la piattaforma ambulatori diffusi ad assistere per un determinato numero di ore i cittadini dei quattro comuni rimasti senza un medico assegnato. Il primo medico ha iniziato a prestare l'attività, il secondo da settimana prossima metterà a disposizione determinate fasce orarie. Per prenotare un appuntamento sia per visite, sia per il rilascio di ricette, occorre rivolgersi alle farmacie sul territorio che possono visualizzare l'agenda del medico e fissare il giorno e l'ora dell'appuntamento. Inoltre l'azienda sociosanitaria territoriale Bergamo Est ha provveduto a mettere a disposizione degli assistiti il servizio di infermiere di famiglia e comunità. Oltre alle visite domiciliari ci sarà la possibilità ogni venerdì dalle 8 alle 14 previo appuntamento presso il punto erogativo di Gromo in piazza Pertini di incontrare gli infermieri di famiglia per la presa in carico di pazienti cronici e fragili con una serie di monitoraggi e valutazioni domiciliari di diversa natura fino ad essere indirizzati in maniera congiunta verso servizi territoriali adeguati. Restiamo in tema, ci spostiamo a Castione della Presolana, altro paese alle prese con il problema della carenza di medici ma sta per arrivare un nuovo medico per i cittadini che erano rimasti senza una figura di riferimento. Da poco più di un anno il comune di Castione della Presolana si trova alle prese con il problema della carenza di medici, adesso però sembra che la situazione si stia sbloccando. Siamo partiti lo scorso anno dopo il pensionamento di due medici ad avere 3200 cittadini di Castione che non avevano copertura medica. La TS a fasi alterne è riuscita a attivare la CAD in presenza a Bratto che è tuttora funzionante fino a fine mese e la CAD diffusa che è un servizio che ho sempre contestato a TS perché oltre a non servire fa girare i cittadini inutilmente per tutta la provincia di Bergo. Ora siamo nel frattempo, in questo anno, nuovi medici sono arrivati sul territorio, non a Castione ma sul territorio per cui da 3200 cittadini senza copertura medica oggi siamo a circa 1400 per cui una buona parte della cittadinanza ha avuto copertura. La novità è che a ottobre a TS fece un concorso per la copertura del posto fisso a Castione mettendo proprio l'obbligo di aprire un ambulatorio a Castione, lo vinse un medico che aveva tempo, parecchi mesi per pensarci, ora questo medico ha dato la disponibilità a aprire l'ambulatorio a Castione o a Bratto, deciderà lui. Però ci sarà un medico che è un medico fisso, sostituto, potrà avere mille pazienti ma può essere incrementato ancora per cui credo che andremo a copertura per marzo con tutti i pazienti di Castione e questo dopo un anno e pass di disagio per gli anziani soprattutto e per le persone più fragili credo sia un buon risultato. A tre anni di distanza dall'inizio della pandemia Alzano Lombardo presenta ai cittadini nel prossimo fine settimana il progetto del monumento a ricordo di quello che ha vissuto l'intera comunità nel 2020. Si tratta di una fontana in Piazza Italia voluta dalle associazioni del territorio. Il servizio è di Simone Masper. Una settimana importante per Alzano Lombardo. Il progetto della fontana che ricorderà le vittime del Covid prosegue prosegue anche in modo particolare grazie alle associazioni del territorio. Si sarà un momento davvero importante ed emozionante quello della presentazione del gruppo scultorio della fontana monumentale di Piazza Italia un progetto che parte da lontano già con il progetto di rigenerazione dell'intera piazza ma in questi ultimi mesi c'è stata un'accelerazione importante l'amministrazione ha costituito delle commissioni per redigere quello che è il messaggio che vogliamo veicolare con questo monumento e anche quello che è il programma iconografico e quindi come si svilupperà questo gruppo scultorio. Ecco questo lavoro che poi si è tradotto in un verbale è stato ricepito da un comitato che si è appositamente costituito, in particolar modo il locale gruppo degli Alpini della Protezione Volontaria Civile e della Proloco ha costituito un comitato per promuovere e realizzare questo monumento. Ha un po' il sapore di altri tempi come quando si realizzavano i monumenti fino ai 800, inizio ai 900, quella che un comitato si faccia carico di realizzare un qualcosa che deve essere di proprietà della comunità, della cittadinanza, deve sentirlo proprio. Ed ecco che il comitato avvierà le procedure anche per raccogliere i fondi per sostenere questo progetto, che è un progetto ambizioso anche dal punto di vista economico in quanto l'importo è stimato di 100.000 euro e quindi l'attività che impegnerà il comitato sarà significativa. A oggi il comitato ha già svolto un ottimo lavoro perché sono già state raccolte 53.000 euro e quindi manca questa seconda parte e confidiamo che con la presentazione del gruppo scultoreo che avverrà nei giorni di venerdì, sabato e domenica ci sia un nuovo slancio per donare, per raccogliere fondi e per dare concretezza a questo progetto che è davvero importante per il significato che porta con sé. Parliamo adesso della situazione coronavirus in provincia di Bergamo. Nell'ultima settimana vediamo come stanno evolvendo i contagi. È sostanzialmente stabile la situazione coronavirus in provincia di Bergamo. L'ultimo monitoraggio della TS registra una leggera riduzione dei contagi. Nella settimana dal 15 al 21 febbraio il tasso di incidenza è stato pari a 29 nuovi casi per 100.000 abitanti. Erano 37 la settimana precedente. Ci sono stati 88 nuovi casi in meno negli ultimi sette giorni. Negli ultimi sette giorni la media giornaliera è di 47 nuovi casi contro i 60 della precedente settimana. L'indice di replicazione diagnostica RdT continua a mostrare una sostanziale stabilità. Il 21 febbraio si è registrato un valore di 0,87. Nei vari ambiti territoriali della provincia di Bergamo si registrano riduzioni o aumenti non significativi del tasso di incidenza. Il numero dei comuni con 0 casi positivi tracciati è 125, pari al 51% del totale. I ricoveri in regime ordinario e in terapia intensiva, già contenuti nelle settimane precedenti, si sono ridotti ulteriormente. Un progetto contro il disagio giovanile, soprattutto per aiutare i ragazzi che si isolano nella propria stanza rinunciando ad uscire e ad avere relazioni sociali. Si chiama Oltre lo Schermo ed è partito nella zona dell'Alto Sebino. Per agganciare i ragazzi si punta sulla videogame terapia. Da alcuni mesi sul territorio dell'Alto Sebino è partito il progetto Oltre lo Schermo dedicato ad adolescenti e giovani. In che cosa consiste questo progetto e come è nato? Nasce da un finanziamento di Regione Lombardia rispetto alle povertà educative di giovani adulti e adolescenti. Noi abbiamo immaginato di dedicare il nostro progetto che si intitola Oltre lo Schermo a ragazzi dai 15 ai 34 anni in condizione di ritiro sociale o a rischio ritiro sociale perché abbiamo pensato che questo fosse un bisogno poco visto e poco trattato ma in forte crescita. Il progetto prevede un percorso assolutamente flessibile e in accordo con le persone che partecipano modulabile che parte da una prima fase di incontro e di contatto attraverso i videogiochi e una terapia che si chiama videogame therapy per poi passare a laboratori in natura barcavela, passeggiate, pet therapy e infine una fase di tutoraggio per fare in modo che queste persone possano esprimersi realmente in qualcosa sul territorio. Quanti ragazzi sono coinvolti? Abbiamo preso contatto con una trentina di ragazzi dell'Alto Sebino per la maggior parte ma con alcune persone che arrivano dalla Val Seriana o dalla Val Camonica continuiamo ad avere delle segnalazioni e quindi riteniamo che questo sia proprio un tema importante da trattare e speriamo che questo progetto possa proseguire nel tempo oltre il tempo del progetto. Questo progetto ci vede capofila insieme ad altre due realtà di palazzolo l'associazione, aperta parentesi, e l'associazione di promozione sociale, il club insieme alla comunità montana dei laghi bergamaschi. Noi abbiamo pensato ad un percorso che si articola in diverse tappe e con diverse azioni che si intersecano poi con altre azioni che proponiamo all'interno di Bergamo Brescia Capitale Cultura 2023 e che abbiamo pensato proprio perché si potenzino reciprocamente. È un progetto impegnativo a tanti livelli ma è anche un progetto entusiasmante. Gian Battista Bonetti di Son Gavazzo è uno dei volontari del progetto Oltre lo Schermo. Perché ti sei fatto coinvolgere in questa esperienza? Mi è sembrato subito un'idea bellissima di aiutare questi ragazzi che hanno problemi con relazionarsi con la società, che si chiudono in casa, che non riescono più a comunicare, ad avere amici, a parlare addirittura con i genitori perché mi sono rispecchiato anche io in questo perché ho avuto anche io come tantissimi ragazzi un momento di chiusura sociale e fortunatamente la mia esperienza non è durata così tanto però ho capito comunque che questi ragazzi vanno aiutati. È un progetto bellissimo che purtroppo non si vede sul nostro territorio e appunto prendo l'occasione per fare un appello a chiunque abbia una voglia di aiutare i ragazzi in difficoltà e sul nostro sito di Oltre lo Schermo, nella parte finale del sito, c'è la voce di Diventa un volontario. Vorremmo avere anche un numero maggiore di volontari perché il numero appunto di partecipanti sta aumentando molto e ci servirebbe una mano. Tanti dirigenti delle società di Gazzaniga presenti alla serata organizzata dall'ambito dei servizi sociali, dalla cooperativa sociale Piccolo Principe con il CSI e dedicata allo sport e ai comportamenti a rischio nei ragazzi. Tante le riflessioni durante la serata, in particolare sull'abbandono dello sport in età giovanile. Sentiamo. Questa sera ha portato la sua esperienza, del suo mondo, definito sport minore, ma comunque come tantissimi sport più di nicchia insegnano tanto innanzitutto. Assolutamente sì. Noi abbiamo anche la fortuna di fare uno sport olimpico, quindi è minore nella realtà del territorio rispetto a quelli che sono i grandissimi protagonisti, ma è anche vero che poi nel crescendo dell'età dei partecipanti è anche abbastanza seguito, quantomeno ecco. Si è parlato di prevenzione, soprattutto il tema che è venuto a galla è stato quello dell'abbandono nell'età adolescenziale. Come lavorare su questo? Allora, l'età adolescenziale è sicuramente un'età molto difficile, piena di grossi cambiamenti sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista sociale, che dal punto di vista mentale e non è facile starci dentro per i ragazzi e non è facile starci dentro per chi ha a che fare con i ragazzi. Sicuramente quello che abbiamo tenuto da questo incontro è che è molto importante creare un ambiente in cui il ragazzo senta la libertà di esprimersi senza giudizi e con la possibilità di non essere sovverchiato dal lavoro. Abbiamo notato che in questa età, anche grazie alle scuole e agli impegni altri, è molto difficile tenere due o tre allenamenti più partita o evento nel fine settimana e quindi è frustrante anche per la persona che non riesce a mettere così tanto tempo mantenere l'impegno sul lungo termine. Quindi trovare un ambiente che possa dedicargli uno spazio anche relativamente piccolo in numeri di ore ma qualitativamente importante è sicuramente un buon modo per tenere la persona attiva nello sport che poi magari non sarà il suo sport di origine sarà un altro perché ha cambiato idea nel crescere non gli piace più una cosa, non gli piace un'altra. Benissimo, l'importante però è che si continui a fare dell'attività. Un sabato colorato il prossimo a Parre dove andrà in scena il Fluo Party scopriamone di più. La Proloco di Parre non si ferma nemmeno in inverno e dopo il Winter Rock Festival ecco un'altra iniziativa alla prima edizione il Fluo Party. Di cosa si tratta? Benissimo, è la prima edizione di una festa invernale dedicata ai colori quindi un po' un cercare di esortare l'arrivo della primavera colorandoci tutti di fluorescente e divertendoci insieme. Quindi il 25 di febbraio, questo sabato ci troviamo alle 6 e mezza del pomeriggio per un bellissimo aperitivo e poi la cena e poi si balla tutti e poi ci sono i DJ e poi e poi e poi quindi come sempre cerchiamo di fare festa grande. Entriamo più nei dettagli della serata scopriamo magari il menu e anche la proposta musicale. Perfetto, allora diciamo intanto che ci troviamo alle 6 e mezza con l'aperitivo con qualsiasi condizione climatica perché siamo al Paladon Bosco e quindi anche se ci fosse fuori il diluvio universale noi dentro siamo al riparo. Alle 7 apriamo le cucine ci saranno le tagliatelle tricolori al ragù poi ci saranno i nuggets poi ci sarà anche l'arrosto fino a sera inoltrata quindi si potrà mangiare anche per un bel po'. Dopodiché si aprono le danze abbiamo il DJ Max Bonetti e il DJ Fan quindi la parola dice tutto divertimento per tutti quindi cocktail spritz, vino, birra tutto quello che vi pare il tutto condito da grande festa grande musica per questo inverno da scaldare. E questa sera alle 21 e 30 su Antenna 2 una nuova puntata di Bergamo sugli sci vediamo quest'anteprima. Il Montepora ha offerto ai pulcini del circuito provinciale un doppio appuntamento grazie allo Sciclub Radici che oltre al gigante valido quale seconda giornata del settimo trofeo Gianni e Luciana Radici ha mandato in pista baby e cuccioli in una divertente gincana veloce che assegnava il trofeo Cosmet. Nella prima gara i padroni di casa ottengono risultato pieno tra i baby dove fanno doppietta con Martina Poletti e Francesco Capelli tra le bimbe sul podio anche l'altra Radicina Giulia Zanetti con Greta Cabrini del 13 Clusone terza mentre tra i bimbi sul podio salgono anche Michele Bianchi del Selvino ed il Radicino Giulio Baiocco. Nelle cucciole ancora Radici davanti a tutte con Viola Vismara che precede un treninino targato 13 Clusone guidato da Neva Gonella seconda seguita da Anita Bonzi terza e Sofia Marinoni quarta. Nei maschietti è il tredicino Simone Bondioli il più veloce che si lascia sulle code Tommaso Zanetti del Radici e Giacomo Zanchi dello Zogno. Nella seconda gara la gincana veloce del trofeo Cosmet tra i baby il Radicino Giulio Baiocco brucia tutti a cominciare da Michele Bianchi del Selvino e Michele Bondioli del 13 Clusone. In campo femminile Martina Poletti fa il bis precedendo la goggina Margherita Bonezzi e l'altra radicina Giulia Cabrini. Nei cuccioli vittoria dello Zogno grazie a Mattia Midali che precede Simone Bondioli del 13 Clusone ed il compagno di team Giacomo Zanchi tra le ragazze posizioni del podio mischiate rispetto al gigante con Anita Bonzi che vince davanti a Viola Vismara e Neva Gonella. Siamo con Olga Zabaiti presidente della Ciclaba Radici una gara molto importante per la vostra famiglia questa. Allora sicuramente è una gara importante al di là del fatto per gli atleti che devono assolutamente avere i loro punteggi per le selezioni regionali eccetera ma per noi come famiglia Radici è molto importante perché ricordiamo i miei suoceri Gianni e Luciana Radici è veramente un onore ricordarli perché è grazie a loro se nella famiglia Radici c'è questa passione per lo sci se esiste lo sci club se mio marito si è preso a cuore il Montepora e Cristina mia figlia ne è diventata presidente e sono anche figli maestri di sci è comunque questo spirito che loro hanno infuso a tutti noi di passione verso lo sport in genere in particolare lo sci e ricordiamo che Bergamo sugli sci andrà in onda in replica anche domenica alle 14 e 30 adesso i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20 e 5 Paddock il programma di motori a cura di Franco Bobbiese alle 21 e 30 Bergamo sugli sci come vi abbiamo detto poc'anzi alle 22 ascoltate il lavoro alle 22 e 30 la seconda edizione del telegiornale alle 23 e 5 Ski Magazine alle 23 e 45 il sasso nello stagno a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG l'Almanacco domani è venerdì 24 febbraio il sole sorge alle 7 e 3 e tramonta alle 18 e 4 la luna in fase crescente sorge alle 9 e 10 tramonta alle 23 e 24 la chiesa ricorda San Sergio è tutto anche per questa edizione vi ricordo dopo il telegiornale la rubrica classica ma non troppo e a seguire le previsioni del tempo grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti